Diminuiscono i casi nei comuni vesuviani. Ancora in calo i numeri dei contagi nel comune di Torre del Greco. Secondo il bollettino di ieri sera, infatti, sono tre le persone registrate che hanno sconfitto il covid-19. Attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Si certificano invece due nuovi positivi. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 96 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata invece si è registrato un nuovo caso di contagio a fronte di 63 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,59%. Si registrano invece tre guarigioni. Sono 62 cittadini attualmente positivi. Nel comune Oplontino inoltre le dosi di vaccino somministrate sono odora 47.685. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono il 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono il 64%.